L'opera si intitola The Show Which Is Also Falsely Called Breaks, ovvero lo show che è erroneamente anche intitolato Interruzioni. Si tratta di una maratona performativa in cui vengono eseguite, o meglio eseguo, quasi tutte le mie performance lecture, dal 2009 ad oggi. Quindi alcune sono più conosciute di altre, come le opere di Documenta o il Freak Show di Documenta, che quindi avrà una sua versione performance lecture per questa maratona e anche l'opera La lettura di Valerie Solanas, questa volta dal vivo e in italiano. Ho anche un adattamento in versione performance lecture dell'opera creata per la Fondazione Querini Stampalia, in cui presento una lezione di storia dell'arte, come se fossi una guida, storia dell'arte rinascimentale, ma poi ovviamente dietro tutti questi display si nascondono poi altre cose. Tutto il mio lavoro è basato sull'utilizzo di display performativi che solitamente noi non associamo alla performance, tra virgolette, classica, contemporanea. E quindi questa maratona creata per il Maxi un po' raccoglie alcuni di questi momenti in cui il pubblico è convinto di assistere alla presentazione di una discografia come quella di mio padre, che è un'opera dell'immaginazione, o crede di assistere a un freak show di una strega, invece in realtà è un manifesto femminista. Quindi è tutto un gioco sull'aspettativa del pubblico e l'utilizzo del linguaggio orale come strumento in realtà di sovversione, che è il mio lavoro, il mio interesse ed è lo strumento che utilizzo principalmente nella mia ricerca. E poi l'altro aspetto che trovo interessante è la manifestazione fisica finalmente delle assassine, il gruppo elite dell'elite del manifesto SCAM di Valerie Solanas. Ne ho parlato tanto, in passato ho fatto anche tanti schizzi, tanti collage, tante immagini relative a queste figure che rappresentavano le attiviste hardcore di questo movimento e quindi attraverso il Maxi ho avuto la possibilità proprio di aruolarle per tutta la durata della maratona. Quindi saranno loro in nostra compagnia durante l'esecuzione delle performance. È qualcosa che mi piace molto questo.